sono di nuovo qui alle lettere dopo il successo delle due passate settimane delle sorelle di Geco affrontiamo un'altra tematica con esattamente ho sognato mia madre ne parliamo con l'autrice Antonella Antonelli, l'interprete Carla Cardarelli e naturalmente il regista Massimiliano Bilesi che saluto tutti e tre insomma buonasera a voi un saluto dalla Malesia noi siamo quasi pronti allora Antonella e Carla soprattutto ci trasferiamo momentaneamente in un luogo simbolico che può essere il Gianicolo ma può essere qualsiasi altro luogo in realtà è un luogo o non luogo è un luogo dell'intimità in realtà un luogo del ricordo dove a un tavolino di un bar c'è questa donna che incomincia a intraprendere un viaggio nella memoria che si racconta esatto perché la memoria è ciò che è in noi ciò che siamo sì è anche il nostro modo di rivedere quello che è stato il percorso della nostra vita esatto è ciò che si nasconde nel luogo del nostro tempo esatto però a volte di elaborare certi ricordi non sempre è semplice no non è semplice vengono anche un pochino cambiati vengono aggiustati ma questo succede a tutti noi e Carla che racconta in pratica si racconta senza essere però la diciamo la vera non è la vera Carla quella che noi conosciamo nel monologo ovviamente è un'altra Carla un personaggio e racconterà un po' tutta la sua vita la racconta forse a un'amica forse a se stessa forse soltanto a noi che staremo lì a vederla chissà molto molto difficile Carla sì Carla che percorso hai fatto per affrontare questo personaggio? allora ho fatto un percorso abbastanza intensivo intensivo perché allora cominciamo sul fatto che io monologhi ne ho fatti tanti ma monologhi così lunghi mai per cui è stato insomma impegnativo sì molto impegnativo ovviamente Antonella mi ha fatto da coach Massimiliano da regista va bene per cui tanta memoria tanta cosa poi piano piano ho incominciato ad entrare dentro questa infatti ma c'è qualcosa di te nel personaggio? beh sì qualche cosa sì sei andata a pescare qualcosa? ho pescato poco perché anche se non c'è tanto del mio personaggio mi viene sempre da piangere va bene quindi cerco di ecco quindi quando incomincio a tirare fuori qualcosa di mio lì proprio le lacrime devo stare attenta a non io lo spero di non far piangere il pubblico no va bene ma va bene ma comprare il pubblico però insomma questo vuol dire che c'è vuol dire che c'è tanta emozione no? molta e poi più vado avanti e più l'emozione cresce perché incomincio a diventare diciamo e sono entrata sempre di più capito? perché prima andavo alla ricerca della memoria proprio la memoria quella da studiare adesso che ce l'ho quasi del tutto mi lascio andare mi lascio andare allora ci sono dei momenti in cui proprio parto capito? vado ti lascio andare è una catarsi quasi sì sì è una catarsi esatto massimiliano senti dal punto di vista registrico dove come sei intervenuto su questo testo? ma guarda io dal punto di vista registrico ho dato una infarinatura iniziale e poi devo dire che sono stato a guardare come lavorano come lavoravano come lavoravano loro e si sono capite subito e devo dire perché è importante che ci sia questa empatia no allora avere io sono uno che ha sempre cacciato via gli autori dalle prove in questo caso però l'autrice era qui a patto che non fosse come altre volte insomma Antonella è stata interprete anche il dramaturga della compagnia però in questo caso è in funzione di autrice ma anche di acting coach certo quindi devo dire che ho visto un lavoro di profondità serio continuativo impegnativo eccetera la mia funzione è stata quella di fare veramente l'occhio esterno di lavorare quindi è un lavoro di cesellatura qualcosa di osservazione ma di profonda collaborazione con loro devo dire con Antonella ne avevamo parlato tante volte di questo monologo poi in passato lei è capitato insomma che l'ha letto in determinate situazioni ne avevamo parlato e quest'anno l'apertura del Politecnico del monologo che è andato alla grande mi pare che l'occasione è giusta quindi la mia è stata un'opera di supervisione di ascolto di coordinamento quindi pochi interventi in realtà ma devo dire loro hanno fatto molto Antonella dava le direttive a Carla molto serrate Carla rispondeva e che è importante questa collaborazione è fondamentale Sacro Santa non c'è mai certo certo ecco sei affidata io non solo mi sono affidata ci sono stati dei momenti in cui quando tornavo a casa la sera che chiudevo tutto quindi disversivi del personaggio mi svegliavo all'improvviso e dicevo no 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 io non lo faccio questo monologo adesso non li posso chiamare perché è tardi ma chiamerò domani mattina no 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 è stato anche un supporto psicologico devo dire devo dire sì 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 quindi insomma quello fa parte dell'attività loro mi caricavano e quindi dico vabbè se loro ci credono e mi stanno caricando è vero che io vado in scena ma è anche vero che insomma loro ci stanno mettendo la faccia lei come scrittrice principalmente il numero regista per cui se avessero visto che tutto sommato era meglio lasciamo perdere insomma hanno puntato sul cavallo vincente no 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 non lo so se sono vincente però insomma ci siamo arrivati questa è la seconda esperienza va bene va bene perché abbiamo avuto anche il piodo con Marco Laudanica avuto lo stesso identico percorso benissimo e allora a questo punto non ci resta che trasferirvi qui al Tato Elettra diciamo per un attimo immaginiamo che siamo a Gianicolo possiamo mettere qualche palma c'è bene magari anche il cannone no si quello spara che nella nostra generazione tutti quanti ricordiamo del Gianicolo come no i burattini del maestro Piantadossi da bambini il cannone a mezzogiorno i nostri amorazzi i nostri amorazzi da ragazzuoli adesso che siamo gente grande ma vedi com'è spuetizza spuetizza no è questa fissa che le sta prendendo della stand up è tutta colpa della maledetta stand up e allora appuntamento a questo punto venerdì sabato e domenica 20 21 22 qui altre altre lettere via Capodafrica 32 diamo i numeri diamo i numeri per la prenotazione allora il numero io do i numeri di solito do i numeri allora 329 8658537 è il numero di cellulare dove tramite whatsapp mi raccomando non telefonate perché ogni tanto qualcuno una signora una volta alle 8.10 ha chiamato oppure casa.delmonologo chiacciolaiau.com e poi il sito è teatrodaviaggio.com che all'interno c'è un lungo link sul teatro Elettra quindi venerdì sabato ore 21 e domenica alle 18 alle 18 io volevo ringraziare Andrea perché sta facendo un bellissimo lavoro ci mancherebbe però è importante perché a noi il teatro in questo momento ha bisogno di un ascolto di un ascolto anche da parte dei media da parte delle testate che fanno finta di non vedere di non sentire e come sempre ci vogliono le giuste professionalità e io quindi volevo ringraziare anche a nome di Antonella di Teatro da Viaggio Andrea Carazzini Quarta Parete grazie scusa non ti imbarazzare perché lavori bene e quindi grazie 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 allora appuntamento dopo questa sviolinata appuntamento qui al teatro Elettra mi raccomando venerdì sabato e domenica ho sognato mia madre di Antonella Antonelli con Carla Cardarelli regia di Massimiliano Melesi arrivederci a presto ciao ciao buon teatro a tutti buon teatro grazie a tutti grazie a tutti